Dottor Angela, nel 1981 nasce Quark come progetto di divulgazione scientifica, possiamo chiamarlo così. Poi col tempo abbiamo notato che lei ha anche cambiato direzione perché si è occupato anche non soltanto di animali, di storia, poi si è parlato anche dell'universo, addirittura di economia. Possiamo pensare che questo libro, che cosa serve alla politica, possa essere una continuazione, un'altra sfaccettatura di quel lavoro che è iniziato nel 1981? Esattamente, perché è l'acqua, o meglio la scienza è un po' come l'acqua che entra dappertutto, la tecnologia ancora di più. Quindi in questo libro ho cercato di spiegare qual è il ruolo nella crescita economica, della tecnologia, della scienza e in generale un po' del pensiero scientifico. Perché siamo sempre un po' l'idea che sia la politica a creare lo sviluppo. Certamente la politica ha un ruolo molto importante, lo sappiamo, ma per millenie non ha potuto creare sviluppo nei paesi. Perché lo strumento per farlo, a cominciare dalla ruota, a cominciare dall'energia, dalla rivoluzione industriale, sono i mezzi tecnici che moltiplicano la capacità di produrre. E poi la politica fa il suo lavoro di distribuzione della ricchezza, ma non di creazione di ricchezza. Questo è un concetto che è un po' la base di questo libro che ho cercato di spiegare in queste giornate qui tra Palermo e Sciacca con tantissimi studenti, devo dire, straordinari, che hanno preparato, hanno letto il libro, hanno preparato le domande. Abbiamo dialogato in questi giorni e sono venuto giù per questa, diciamo, tourne in tre tappe, proprio volentieri. Perché grazie al noceo Raso questa operazione è stata veramente portata a termine felicemente. Lei ha spiegato anche il tema della distribuzione della ricchezza attraverso una clip molto significativa e anche indicativa. Il latte nei vari bicchieri, ogni bicchiere indicava una parte della vita pubblica, della produzione, della distribuzione. Ecco, questo per dire che il problema è stato quello di una distribuzione della ricchezza che non è avvenuta in modo coerente. Diciamo, a me piace l'idea un po' della mucca come produttrice di ricchezza di latte e se ci pensa il politico è proprio quello che distribuisce il latte. Ora, poi ogni politica, ogni partito, ogni corrente può portare il latte in una direzione o in un'altra, fa parte delle linee, dei progetti e dei programmi. Ma è la mucca che bisogna accarezzare, nutrire bene, portare avanti bene, fare in modo che produca tanto latte. Al di là della metafora, credo che non diamo importanza a alcuni grandi fattori di sviluppo, dei motori, che sono l'educazione, l'innovazione, che richiede scienza e tecnologia, che richiede regole, che richiede merito. Tutto questo è veramente la base di ogni paese e di questo si parla molto poco nei dibattiti politici. Si pensa che siano gli orientamenti, i progetti a farla crescere. La crescita non si fa per decreto. A proposito di politica, lei ne parla rispetto a un tema di ordine generale, però oggi la politica è al centro del dibattito, soprattutto per gli aspetti politico-elettorali. Ecco, non per citare Alcide De Gasperi, il quale diceva qual era la differenza tra il politico e lo statista. Lei non trova che l'interesse verso il teatrino, vogliamo definirlo così, perché probabilmente di questo si tratta sia un po' eccessivo in questa fase? Noi abbiamo un cervello che è fatto di varie parti, quella istintiva, arcaica, che sono i sistemi di sopravvivenza. Poi abbiamo una parte nobile, che è quella della corteccia, dove c'è l'intelligenza, la creatività, la musica, l'arte. Ma abbiamo al centro una parte anche essa arcaica, che si chiama sistema limbico, composta da varie parti, che presiede all'emotività. Quella roba lì è molto importante nel comportamento umano, nella comunicazione. Quando si accende questa parte delle emozioni, la gente anche si accende. E allora lei parlava di dibattiti. Noi vediamo nei dibattiti, è quella parte lì che viene stimolata. Cioè l'emotività, le promesse, il pensiero magico, è tutto quello che in qualche modo colpisce nel profondo dei desideri, della voglia di avere per esempio più reddito, più occupazione. E la parte nobile del cervello, quella viene penalizzata. Allora, io lo vedo anche nel mio lavoro, noi dobbiamo tenere molto conto dell'emotività nella comunicazione, perché è quella che fa accendere il cervello in qualche modo. Aveva ragione De Gasperi però, insomma, non si è investito sul futuro. Guardi, De Gasperi in fondo, in quella famosa frase che diceva un politico è quello che guarda alle prossime elezioni e lo statista guarda al futuro. In realtà, lì in fondo si vede in nuce la differenza tra governo e Stato. Il governo, comunque il politico, quello che cerca una maggioranza, è quello che guarda alle prossime elezioni. Lo statista è qualcuno che è dalla parte dello Stato. E lo Stato è la collettività. Non pensa solo alla parte sua, pensa all'insieme del Paese. E questo manca profondamente nel nostro Paese oggi. Una visione che sia non soltanto legata dai progetti politici di parte, ma che tenga conto della zattera sulla quale siamo tutti, della collettività. E se non c'è una regola, dei progetti comuni, un fondo, un legame che lega, come avviene in tanti Paesi, vedi, gli Stati Uniti per esempio hanno tante diversità di ogni genere, ma si riconoscono nel proprio Paese. Noi ci riconosciamo molto poco nel nostro Paese. Questa è un'educazione da portare avanti, difficile, per sentirci comunità, dove le regole valgono per tutti. Poi ognuno gioca la sua partita. A proposito dei partiti, lei ne ha viste tante. Che spettatore è dei dibattiti, Piero Angela? Dei dibattiti? Ah, guarda, io cerco sempre di... Di sincanto? Come li guardo? No, li guardo un po' come una partita di calcio. Uno a zero, applauso, due a uno, eccetera. Questo è un peccato perché in fondo i problemi di cui io parlo nel libro, e non solo, sono molto poco affrontati. Lei vede i dibattiti su come migliorare l'insegnamento, di come valutare il merito, di cosa fare per far rispettare le regole. Queste cose qui sono fondamentali, per la ragione, dicevo prima, che creare una collettività e farla funzionare bene. No, si parla sempre di cose diverse, le sappiamo. Poi tanto più la gente litica, tanto meglio è. Ecco, in base ad alcuni dati della Banca Mondiale, l'Italia è al 73esimo posto per attrattività nei confronti delle imprese. Secondo lei si può salire le china? E in che modo? Si deve salire le china, perché se manca l'attrattività, cioè se mancano gli investimenti, ne sappiamo, ne faccio un esempio semplice, non è soltanto dall'estero che devono portare qui le cose. Non posso citare il nome dell'azienda, ma in sostanza è una grande azienda che voleva aprire qui in Italia una fabbrica e per mesi e mesi hanno lottato. Contemporaneamente ne hanno aperto una a Chicago, in un mese hanno fatto tutto. È pieno di esempi di questo genere. Noi siamo dentro uno di questi esempi, se lo sa, troppo forte. Qui non è questione, non è costi miliardi, non è da cambiare la Costituzione. basta farle queste cose, perché dobbiamo passare anni per avere una sentenza, perché dobbiamo fare in modo che chi viene qui non abbia la certezza del diritto per fare un allaccio, per ottenere un permesso, per ottenere un prestito bancario. Queste cose non è che non si fanno, si fanno in tempi lunghissimi, non c'è la certezza del diritto. Queste cose scoraggiano profondamente, ma non solo quelle di fuori, ma anche di quelle di dentro, che preferiscono andarsene da un'altra parte. Sono curioso di conoscere la sua opinione sulla fuga dei cervelli. È un argomento di cui si parla spesso. Lei prima, poco fa, ne ha fatto un piccolo riferimento. Qual è la sua opinione? Dobbiamo davvero preoccuparci del fatto che oggi i giovani laureati, i giovani scienziati siano costretti ad andare via? Guardi, io ho scritto la prefazione a due libri dell'Associazione dei Dottorati. Uno ha i cervelli in fuga e l'altro ha i cervelli in gabbia. Cioè sono quelli che non sono partiti e che raccontano i problemi che hanno incontrato. E basta leggere queste storie, che sono in prima persona, sono racconti della propria vita, di quello che hanno vissuto, e ci si rende conto di cui sono i problemi. Non sono grandi problemi anche qui, per cui bisogna cambiare la Costituzione. No, basta fare delle cose normali. Ecco, diciamo che in Italia, lo sappiamo, che hanno dei problemi di costume, oltre poi di corruzione, eccetera. Allora, il fuga dei cervelli, diciamo che in gran parte fa bene, perché fa bene che un giovane se ne vada in giro, si avvia qualche anno, e poi ritorni, perché il problema è il ritorno, non riesce più a rientrare, perché il sistema lo esclude. Tu sei fuori, come si dice oggi. Quindi, cosa succede? Che fuori non solo trovano degli stipendi migliori, perché certamente, ma non puoi così tanto, non è che cambia la vita, però soprattutto trovano un ambiente di lavoro dove sono gratificati, dove possono fare ricerca bene, dove sono a contatto con persone di alta qualità. Qualunque persona che ha una professione in cui crede, perché fare lo scienziato, fare il ricercatore, è un po' come fare il violinista, il compositore, l'artista. Cioè, sono cose che uno fa, non per lo stipendio, per potersi realizzare. E quindi altrove si trovano queste condizioni, che sono molto importanti. Quindi questa è una cosa da evitare, assolutamente. Noi vediamo che i nuovi paesi emergenti, in particolare l'Asia, hanno dato una priorità assoluta alla scuola e alla ricerca, perché sanno che sono i due motori dello sviluppo. Sono con quelli che si fanno l'innovazione, e quindi si dà al paese, all'industria, una marcia in più, perché poi nella competizione si è vincenti. si studia moltissimo, si studia seriamente. Ma lei ha mai visto un dibattito su questo argomento? Cioè, queste cose dovrebbero essere tutte le sere che si parla di questo. Perché sono questi i nostri problemi. Le scelte politiche, si capisce che si possono fare, ma in cinque minuti, per così dire. Questa roba qui richiede tempi molto lunghi. Cosa pensa lei dello sviluppo della Sicilia? Noi siamo in una struttura turistica che evidentemente il turismo poteva essere, e lo è ancora probabilmente, la possibilità di superare determinate barriere. Però quando si parla di sviluppo economia in Sicilia sappiamo anche che c'è un cancro ancora forte. Vorrei conoscere la sua opinione rispetto alle scelte che si sono fatte e se ritiene che ci sia stato qualche cambiamento comunque nel corso degli anni, dalle nostre parti. Guardi, questo cancro non è solo in Sicilia, lo sappiamo bene, ormai risale tutta la penisola, lo troviamo ovunque. Tra l'altro è un sistema che ormai è diventato meno militare e più finanziario, perché rende di più, meno di più che dalle canne mozze alla banca, quindi è difficilissimo ormai da affrontare. Quello che è incoraggiante è vedere che le nuove generazioni sono molto diverse da prima, nel senso che hanno preso coscienza e hanno il coraggio di esporsi, di reclamare un futuro diverso, perché questo incide sul loro futuro, lo sappiamo benissimo, se uno ha questo handicap in partenza ha molte difficoltà per appararsi. Per quanto riguarda il turismo, anche qui abbiamo dei ritardi gravissimi, generali, non riguarda la Sicilia. La Sicilia ha una fortuna, che è quella di essere un paese straordinario, con un clima, vediamo qui, dei paesaggi, quindi ha tutta la materia prima. In generale in Italia manca il software, come dire. Ma è possibile che in un paese come l'Italia, che ha questa grande vocazione turistica, non ci siano grandi catene alberghiere, che vengono da fuori per fare gli alberghi a intercettare loro il nostro turismo, o che ci siano paesi molto meno attrezzati di noi, per quanto riguarda le bellezze naturali, beni storici, monumenti, città d'arte, che intercettano più il turismo. Quindi è un po' tutto il sistema, che poi nelle sue varie parti non funziona. È la scuola, è la ricerca, è l'innovazione, è l'industria, è l'attrattività, è il turismo. Il problema è uno solo, che è quello di modificare il motore perché poi possa espandersi in tutte le sue varie parti. A proposito, tornando a Quark, lei è stato l'iniziatore di una fase anche televisiva nuova, che qualcuno ha anche cercato di riprendere, poi diciamo anche suo figlio la porta avanti con successo. Però dobbiamo anche dire che dietro la divulgazione scientifica, dietro quella che si presenta come divulgazione scientifica, c'è il rischio che ci sia anche la sola. Mi riferisco al fatto che lei, per esempio, per fronteggiare questo rischio ha creato un organismo, il cosiddetto CICAP, perché qualcuno parla di divulgazione scientifica, poi invece racconta storie paranormali. Lei si è impegnato a, diciamo così, smascherare queste storie. Ma guardi, queste cose qui è sempre mandato personalmente, ma già dall'inizio, quando ho cominciato a fare divulgazione scientifica, il pensiero magico, che diceva prima che va benissimo, se uno vuole guardare l'oroscopo e sapere che oggi sei da, ah sì, sapevo che tu eri un capricorno, è innocente. Però in realtà spesso è una droga leggera per passare a droghe pesanti. Allora, nell'occasione di un'inchiesta che ho fatto, mi sono reso conto che i danni possono essere notevoli. Soprattutto non è la mia intenzione, e non lo è, di attaccare queste persone, anche se meritano di essere attaccate, ma soprattutto di difendere l'ambito della scienza. Perché quando ho cominciato a fare questa operazione di pulizia, per così dire, la parapsicologia era addirittura entrata, parzialmente è stata riconosciuta, anche perché gli scienziati sono in buona fede, se pensano che qualcuno riporta dei risultati, invece lì c'erano non tanto delle truffe, ma delle cose che erano viste in modo distorto, non c'erano stati dei controlli, dei protocolli fatti male. E quindi mi sono impegnato, e mi sono anche impegnato più seriamente dopo, quando è venuto fuori un filone di medicine cosiddette alternative, che alternative non sono, a cominciare dall'omeopatia, per la quale insieme al collega Gian Gipolle abbiamo fatto un'operazione verità che ci valsa naturalmente, a me in particolare, una serie di attacchi, denunce, processi, eccetera, sempre finiti, trionfalmente. E credo che anche su questo fronte c'è poca attenzione. Ora, se noi accettiamo come vere delle cose che vere non sono, ci sono poi dei casi clamorosi, quello ultimo, Stammila, ma di Bella, tra l'altro, si illudono dei pazienti e dei parenti su delle cure che poi non sono tali. Ecco, anche lì c'è un pensiero distorto che va in qualche modo preservato. Insomma, noi abbiamo bisogno, diciamo prima, che c'è questa emotività che è forte nel comportamento, ma abbiamo bisogno anche di avere una razionalità che prevalga almeno nei momenti giusti. 1954, 2014, 60 anni della televisione italiana. Lo chiedo a un protagonista non a caso. La televisione ha aiutato a crescere l'Italia, ha educato la televisione? Ha aiutato a crescere e a decrescere. Nel senso che... C'è un'altra faccia della medaglia, evidentemente? No, diciamo, spesso si dice che ha alzato il livello di chi era sotto l'asticella, ma ha abbassato un po' quello che era sopra. Questo è vero, è difficile sapere se la società cambia per tanti versi. La televisione è uno di questi. La televisione potrebbe avere un ruolo straordinario perché pensi che in Italia la media degli ascolti è 4 ore e più al giorno per ogni individuo. che vuol dire qualcosa come 1.500 ore l'anno. La scuola 800-1000. Quindi potrebbe essere una risorsa straordinaria. E quindi in tutti noi il nostro mestiere è il suo, ma non solo, perché tutta l'informazione sui temi di cui abbiamo parlato dovrebbe essere molto più attenta perché in fondo abbiamo una responsabilità o una corresponsabilità nel permettere alla gente di capire un po' il mondo, il mondo come cambia adesso con queste nuove tecnologie che rischiano di creare disoccupazione, cambiamenti radicali nell'industria, in tutte le attività. Tra l'altro noi abbiamo cominciato a fare dei programmi su questo tema e riprenderemo anche nelle prossime edizioni. Quindi diciamo abbiamo bisogno di far funzionare meglio la parte nobile del cervello mettendogli dentro l'emotività perché questo fa parte della vita ma un po' rovesciare il rapporto che c'è oggi. Oggi siamo vittime troppo delle cose che ci colpiscono dal punto di vista umano come si dice ma anche il cervello dalla sua parte nobile è forse ancora un po' più umano perché è quello che ci rende diverso dagli animali. Fu l'emotività nell'83 che la fece esporre quando fu arrestato il suo amico Enzo Tortora a dire che era una bufala era un errore giudiziario clamoroso come poi quattro anni dopo i fatti avrebbero dimostrato. Allora con Enzo Tortora eravamo amici dall'inizio perché abbiamo cominciato insieme a Torino e poi ci siamo persi di vista perché lui poi è andato a Milano e io a Roma ma me ne sono reso conto immediatamente quando parlando con l'avvocato che io ho seguito poi dietro le quinte con la famiglia tutte queste cose non so raccontarle tutti i fatti ma insomma uno si rende conto che era una cosa folle completamente Lei prese posizione pubblicamente? Certo io ho raccolto firme di personaggi importanti spiegando loro come stavano le cose perché avevo capito poi conoscendo la persona lui era un perbenista addirittura era un ero dalla parte dei carabinieri per dire cioè una persona poi lontanissima ma poi immagini se lei deve spacciare della droga a chi nell'ambito si diceva dello spettacolo a chi si fida? Ma a un omino senza nome e senza volto lo fa uno che cinque minuti dopo lo sanno tutti cioè proprio c'è una cosa illogica e meccanica senza andare poi però ecco io lì ho visto molte persone che si sono tirate indietro hanno avuto paura perché oddio bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno e quindi per fortuna poi le cose sono finite come sappiamo anche se poi lui purtroppo ne ha pagato gravi conseguenze ne ha pagato le conseguenze poi non si sa mai bene quanto un tumore sia collegato allo stress nella parte conclusiva certamente nella parte iniziale non credo perché anche gli oncologi spiegano che sono malattie che hanno un processo molto lungo di sviluppo e quindi partono magari dieci anni prima ecco a proposito di amici lei con gli amici con i suoi amici condivide anche la passione per la musica Franco Cerri per esempio col jazz Franco Cerri è vero che volete fare qualcosa insieme ma abbiamo fatto qualcosa insieme abbiamo suonato qualche volta ricordo quando lui ho compiuto 80 anni a Milano c'è stato un concerto in suo onore che tra l'altro si intitolava 80 anni suonati e abbiamo suonato un paio di pezzi qualche volta ci vediamo però purtroppo lui sta a Milano io sta a Roma ma è anche una persona deliziosa poi tutti lo conoscono come l'uomino a mollo la televisione che danni che fa danni fino a un certo punto perché credo che gli abbia anche reso abbastanza questa pubblicità però è poco conosciuto come chieterrista mentre le apprezzate tutto il mondo veramente straordinario ecco un'ultima cosa su quello che dobbiamo aspettarci lei ha fatto questo libro a cosa serve la politica perché probabilmente era utile anche fare un po' il punto della situazione che spesso i dibattiti del teatrino ci fanno dimenticare poi quello l'argomento centrale che è la politica ma adesso che cosa dobbiamo aspettarci secondo il suo giudizio anche rispetto a come stanno andando le cose adesso lei ha dato dei suggerimenti anche durante questa intervista su quello che occorrerebbe fare su che cosa l'Italia deve puntare per cercare di cambiare pelle ma cosa dobbiamo aspettarci lei è ottimista guardi io non ho mai capito se uno può essere ottimista o pessimista perché le carte cambiano così continuamente ne faccio un esempio per la televisione se io guardi dietro i miei 60 anni di televisione non sarei mai stato capace ogni volta di prevedere dieci anni dopo cosa sarebbe successo questo è vero in tutti i campi lo è anche nella politica nei cambiamenti oggi c'è un cambiamento molto rapido in tutto il mondo oggi non bisogna soltanto guardare dentro casa nostra la globalizzazione cambia i sistemi c'è una circolazione di merci di persone anche di modelli io faccio l'esempio ma lei negli anni 70 avrebbe potuto prevedere che le auto italiane vendute al 90% sarebbero scese al 28% oggi sì uno avrebbe potuto prevedere una risoluzione questo per dare un piccolo avrebbe potuto prevedere che la Kodak che era un impero immenso che era monopolista praticamente nel campo della pellicola sarebbe crollata e fallita con l'arrivento del digitale quindi è quella che gli economisti chiamano la creazione distruttiva cioè o meglio la distruzione creativa cioè le cose cambiano in continuazione ci sono dei dati che mostrano che tra le 500 società quotate in borsa negli ultimi 40 anni ne sono rimaste 75 perché c'è un ricambio continuo questo vuol dire che la società cambia quindi anche la politica deve capire che i tempi sono lei oggi a scuola ha detto che non si deve avere nostalgia del passato no del passato assolutamente io non vorrei mai vivere nel passato essere un contadino dell'ottocento o un carcerato del settecento o un interrogato del seicento se qualcuno come lei mi interrogasse del seicento non avrebbe in mano un microfono ma un ferro rovete allora per carità del passato poi si moriva di tutto la vita media era dopo non si stava meglio quando si stava peggio si stava peggio completamente oggi abbiamo degli inquinamenti chimici allora c'è inquinamenti biologici cioè batteri e virus che falcidiamano la gente però per tornare alla sua domanda cosa si può fare oggi ma guardi che le cose di cui io parlo questo libro sono eterne non è che siano riferite a un periodo noi abbiamo più bisogno di altri di valutare di rivalutare di promuovere di spingere questo cambiamento nelle direzioni che dicevo l'educazione la qualità l'eccellenza l'innovazione il rapporto tra l'industria e la ricerca la ricerca le modalità della ricerca le regole il merito cosa che in Italia è calpestata comunque se lei fa un'automobile da corsa di Formula 1 tutti i pezzi non è che la macchina è qualcosa di un pezzo unico la macchina è fatta c'è la ruota il motore il volante tutto il resto tutta la parizzatura digitale se lei dice ma siccome il mio cugino fa le ruote gli faccio vedere da lui il mio cognato fa l'elettronica è una brava persona allora che macchina le viene fuori e noi abbiamo bisogno che il merito sia spalmato ovunque non soltanto nella ricerca ma ovunque nella società sappiamo che non vanno non è che si possa cambiare il paese da un momento all'altro ma perlomeno se si capiscono gli obiettivi se si capiscono i danni che produce la situazione alla quale noi ci troviamo beh perlomeno anche i giovani possono capire meglio la direzione di marcia poi le difficoltà si superano se uno sa dove deve andare e se è motivato a farlo a farlo Grazie per la visione!